ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino punto com appuntamento numero 26 con la diretta del mercoledì di una stagione interminabile che speravamo potesse finire un pochino prima almeno con l'inconseguimento del risultato sportivo auspicato dalla spalla e con questa introduzione che suona un po lunedì sport ben ritrovati ciao ragazzi ciao ciao a tutti esatto i giovedì eccezionalmente i giovedì perché ieri sera tutti quanti eravamo afflitti da problemi organizzativi di varia natura e quindi infatti è un'introduzione diretta del mercoledì ma vabbè comunque facciamo finta che sia così e rifacciamola dai cancelliamo questa diretta la rifacciamo no vabbè detto questo stasera eccezionalmente puntuali cosa che non era accaduta negli ultimi due appuntamenti quindi bene così detto questo direi di tuffarci immediatamente nel nei temi caldi intanto saluto i commentatori esatto paolo guardate che 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 layout fico anche per i commenti che abbiamo una donna è una botta veramente di vita siamo veramente che ci dice subito apre con un messaggio subito rassicurante sì vabbè comunque buttiamoci subito nell'attualità con una domanda chi ha paura dei play out tutti chi non ha paura dei play out arrivati a questo punto già perché ovviamente il pareggio col crotone ha complicato ha complicato molto lo scenario devo dire che dopo una settimana intera passata a leggere ma tanto tre punti col crotone siamo a posto siamo a posto siamo a posto io leo tu mi sei testimone ho sempre detto no siamo a posto un attimo non siamo a posto niente perché intanto il crotone devi battere e poi e poi ci si guarda comunque forse forse questa convinzione dei tre punti facili se l'era fatta la spalla stessa intesa come squadra perché altrimenti ci fa fatica spiegare un andamento di questo tipo aggiungiamoci il fatto che forse si è confidato troppo a lungo sulle disgrazie altrui scusate ragazzi sono arrivati tra l'altro una svalangata di commenti tra le varie volevo dire che ci sono sento tanti commentatori che dicono di avere molto paura dei play out quindi diciamo che abbiamo introdotto un tema molto molto caldo puoi andare avanti sì diciamo che la la delusione post partita col crotone io sinceramente devo devo ancora smaltirla è vero che in maniera per scrupolo no chi chi per scaramanzia che per scrupolo pensava che comunque la partita in qualche modo potesse essere messa in dubbio cosa che alla fine è stato perché se a fine primo tempo finiva almeno due a zero per il crotone non c'era assolutamente nulla da dire almeno due a zero però io veramente la cosa che mi fa più più pensare che mi lascia più sì che mi lascia più la mano in bocca è l'atteggiamento è l'atteggiamento della squadra non è la non possibilità di poter cogliere punti contro il breccia oppure contro il frosinone perché insomma cioè alla fine abbia visto risultati anche un po' balordino ogni tanto però cioè io mentre guardavo la partita non so voi orla tu in realtà non eri neanche in italia ma l'avrei sicuramente rivista l'ho rivista risultato acquisito però io mi dico ma in quale modo questa spal può fare gol cioè non c'era non c'è stata un'azione o se noi togliamo un paio insomma ecco ovviamente quello del gol oppure dopo l'entrata di melchiorri che mi ha fatto dire guarda adesso si stanno creando i presupposti per fare gol mai ma mai ma mai quella partita poteva durare non so altra un'altra mezz'ora cioè è questo il punto è questa è una cosa che mi fa incazzare e se la squadra ma non credo orla che la squadra abbia pensato di essere più forte del crotone perché se sei lì non puoi pensare di essere più forte come molti l'hanno pensato e allora abbiamo un grosso problema giornate mi sembra abbastanza evidente non lo so non io sono veramente molto 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 sconfortato allora io faccio subito ammenda e dico che lunedì o non hai visto la partita anche tu no lunedì non l'ho vista e stavo tra l'altro per attaccarmi per vederla e ho visto dopo sette minuti che eravamo in svantaggio e ho detto vabbè dai che che magari mi posso farmi un giro faccio altro ciao Andrea nel frattempo che sei sempre connesso e saluti sempre e solo me si vede che noi non gli stiamo simpatici e no allora per quanto riguarda il discorso che faceva Leo vorrei aggiungere una cosa che non mi sembra del tutto un caso che poi alla fine la giocata che ha raddrizzato la partita sia arrivata dai due giocatori più anziani in campo o tra i più anziani in campo quindi Melchiorri che va a rincorrere quel pallone diretto verso il fondo e Rossi che fa quella giocata tra l'altro aveva avuto un'occasione buona anche prima che un giocatore della sua qualità probabilmente poteva buttare dentro però ecco mi viene da dire che non la vedo come una casualità evidentemente servono quei giocatori lì in situazioni del genere bisogna solo capire un elemento ragazzi perché le analisi che stiamo leggendo qua e là a destra manca in questi giorni dicono ma figurati se questa squadra cioè la SPAL riesce a fare quei quattro punti poi ne parleremo delle tabelle dei conti delle speculazioni riesce a fare quei quattro punti contro Brescia Forsinone e Benevento il che in un'ottica diciamo così deterministica è un ragionamento corretto ma il determinismo spesso non si non si non si abbina bene con il calcio perché niente di quello che sembra scontato poi alla fine quello che voglio dire è potrebbe essere plausibile anche il contrario cioè la narrazione comune in questo momento è questa squadra si è messa nei pasticci da sola sottovalutando probabilmente il pericolo adesso rischia andare giù e se vai play out giù come un sasso perché questi giocatori non sanno affrontare queste partite io voglio proporre una una visione alternativa ma se messi davanti veramente al precipizio questi veramente non tirano fuori qualcosa in più capiscono la gravità della situazione riescono a fare quelle due prestazioni che ti fanno fare quei quattro punti e poi tanti saluti sono troppo fantasioso penso a una roba del genere no secondo me non sei troppo fantasioso però sarebbe uno scenario cioè è uno scenario molto ottimistico per quello che mi riguarda e soprattutto sarebbe una di quelle cose che mi farebbe anche veramente incazzare perché tu dici io da procrastinatrice cronica quale sono sono sempre molto severa con me stessa quando raggiungo i risultati in questo modo qui e c'è lo so che era una certa van raggiunti però mi farebbe molto incazzare che andasse veramente a vincere così ad ogni modo opinione un po impopolare vai pure leo intanto io faccio un recap dei commenti no no vorrei tornare su su quello che diceva orla è chiaro che arrivati a questo punto cioè che si vinca perché la spalla fa la prestazione di cui parla sempre venturato e dopo arriveremo anche venturato ho visto che qualcuno l'ha scritto oppure che si vinca con un gol in scarabuzzlona me non mi frega niente cioè nel senso io non credo onestamente che questa squadra abbia la personalità perché di questo si parla di poter andare a fare prestazioni di un certo tipo è ovvio che me lo auguro mi auguro che dopo una prestazione vergognosa come quella di crotone come quella contro il crotone scatti qualcosa adesso io non so quali sono i tasti giusti da da spingere una squadra non so se in società li abbiano non sono sicuro che venturato li abbia perché sinceramente un allenatore di quella insomma che ha fatto così tanto bene a cittadella eccetera 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 mi aspettavo che una partita del crotone li prendesse e l'inchiodasse l'inchiodasse il crotone nella sua area finché non faceva tre gol e poi grazie di vederci invece così non è stato ragazzi cioè così non è stato così non è stato e la spalla è stata in balia del crotone e io orla spero che quello che tu dici possa possa essere vero perché le qualità ci sono adesso non è che possiamo neanche fare il funerale in anticipo quando la spalla non è neanche nel play out a proposito a proposito hai detto una cosa che mi ha un attimo stimolato poi chiedere alla poli di fare un po' riprevo dei momenti più significativi sott'occhio e no ma è leo e l'altro giorno ho voluto fare un calcolo cioè la media è di un punto spaccato quindi tutta sta qualità e sta squadra io non so dove stia cioè è una qualità teorica ovviamente è una qualità presunta penso comunque sul fatto che possiamo concordare che se prendiamo in esame il girone di ritorno ci sono state almeno due o tre partite nelle quali la Spal avrebbe meritato di vincere e non ci è riuscita ci sono anche state partite nelle quali avrebbe palesemente meritato di perdere invece ha portato a casa la pellaccia una su tutte quella di lunedì scorso ma anche quel cosenza di fatto perché ha fatto pietà però vabbè allora uno dei ritornelli della stagione era questa squadra vale più punti di quanti non abbia fatto vale questo vale quello in più ci mettiamo il carico col fatto che Tacopina fino a fine febbraio comunque ha parlato di playoff cioè del fatto che secondo lui questa squadra aveva un valore da playoff e che secondo lui con un po' di fortuna con qualche elargizione arbitrale perché ricordiamo la frase ci mancano sette punti per colpa degli arbitri insomma lui era convinto che il margine con la zona playoff potesse essere se non altro inferiore e permettere di rientrare a qualunque momento ragionamento che credo abbia fatto anche il Parma fino a una settimana fa salvo poi perdere miseramente con l'Aspoli detto questo Leo sai quanti sono stati i punti di media in stagione che l'Aspala ha avuto tutto il campionato con la zona playoff no provo a dire un numero spannometrico la distanza tra i punti playoff la distanza media si la distanza media 12 9 e mezzo che nel giorno d'andata è stata di 4 e mezzo nel giorno d'andata è stata di 14 e mezzo cioè vuol dire che insomma il pensiero di fare i playoff non solo era irrealistico già a metà della stagione ma è diventato completamente non voglio usare un termine offensivo però utopistico diciamo così nella seconda parte quindi tornando al principio la qualità sì è una qualità presunta ma è una qualità che si è vista solo in pochissimi spezzoni però non è detto che la qualità sia via per forza il risultato cioè secondo me io credo veramente che la SPAL qualitativamente nei singoli sia migliore del gruppo di squadre che lì vicino ma stessa cosa vale anche per il Parma cioè non possiamo dire che la qualità dei giocatori del Parma non sia superiore alla qualità dei giocatori del Como ad esempio dico due squadre più o meno in quella zona però cioè i risultati arrivano per tanti fattori non solo per la qualità arrivano per l'amalgama per per la tigna che ci mettono in campo cioè questa SPAL qui non ha nervo questa SPAL qui non ha cioè a parte che non diverte questo ormai lo sanno anche i sassi l'abbiamo detto però oltre a non divertire adesso non sta neanche facendo quel minimo sindacale per cui non dico sono pagati perché sarebbe troppo semplicistico però per cui l'obiettivo minimo cioè stiamo parlando dell'obiettivo minimo che è la salvezza non stiamo parlando che non riescono ad arrivare ai playoff cioè secondo me è una cosa veramente scandalosa poi mi fermo perché mi sono ripromesso prima della diretta di nascere troppo cattivo e poi bisogna leggere poi poi ragazzi veramente se non inizio a leggere qualcosa mi perdono vai polli allora per rispondere alla domanda di orla cioè alla domanda provocazione direi che c'è della grandissima speranza e tutti hanno più o meno detto che è l'ipotesi più romantica che potrebbe esserci tranne quelli che ti dicono di lasciare stare con queste cose e successivamente c'è una domanda che si attacca secondo me bene a quello che ha detto Leo poco fa ed è una domanda da parte di Marco De Risio che chiede ciao Marco ciao Marco secondo voi la colpa è da attribuire totalmente a mister Venturato o chi ha pensato in dirigenza che bastasse prendere un ottimo allenatore come Venturato per risolvere i problemi infiniti di questa rosa male assortita ciao Marco è una domanda da un milione di dollari no io non credo che la colpa sia da attribuire completamente Venturato perché quasi mai secondo me la colpa di una situazione del genere deve essere attribuita a un allenatore che si chiami Venturato che si chiami Marino che si chiami Rastelli o Di Biaggio anche Di Biaggio è stato ridicolizzato due anni fa per finale di campionato orrendo però poveraccio cioè alla fine anche lui sì per quanto sia un allenatore insomma con credenziali scarse si trova in un contesto di una squadra costruita male i giocatori smaronati il dialogo sportivo che se ne va durante il lockdown e tutto il resto cioè è chiaro che mancavano proprio i presupposti per fare le cose fatte bene in questo caso la squadra stava fondando però non è la stessa cosa Orla no non sto dicendo che sia la stessa cosa dico solo che valutare esclusivamente la responsabilità di un allenatore per una squadra che va male secondo me è semplicistico dico che ci sono diverse componenti e una di queste componenti è sicuramente il fatto di aver impostato una stagione cercando di salvare Capra e Cavoli e mi riferisco al fatto che all'inizio stagione tra l'altro lasciamo stare il passaggio di proprietà a agosto inoltrato che comunque ha un impatto ma si è detto ci dobbiamo salvare ma dobbiamo fare anche giocare i giovani il più possibile perché dobbiamo tirare su qui cacchio di contributi per sistemare il bilancio in meno tempo possibile l'altro giorno non mi ricordo con chi ne parlavo dicevo quando fai una squadra di giovani per salvarti in B la fai perché non hai una lira e speri di riuscire a salvarti ma non ne sei realmente convinto in questo caso invece si è detto vabbè facciamo una squadra di giovani con quei 4-5 elementi che riteniamo essere di categoria se non meglio o che nella loro testa sono meglio e dovremmo riuscire a fare quello che dovrebbero riuscire a fare e magari ci dobbiamo anche qualche soddisfazione in più le cose non sono andate come dovevano andare per una lunga serie di motivi quindi è chiaro che c'è una responsabilità anche di chi ha costruito questa squadra di chi ha ideato questo progetto tecnico ma Tarantino e Zaumner sono i primi a saperlo poi loro hanno la loro visione e hanno le loro spiegazioni però è chiaro che anche loro hanno delle responsabilità in questa situazione non potrebbe essere diversamente c'è Claudio che invece dà una sua chiave di lettura dicendoci che la SPAL quando deve impostare la gara ha difficoltà con squadre che si chiusano e poi ripartono perché ha poca qualità si trova meglio in trasferta quando gioca di rimessa cosa ne dite? quello che dice Claudio è ragionevole nel senso non è una cosa accampata in aria io credo veramente che questa squadra viva e dopo Orla ti chiedo un attimo di tornare anche te Polli si può leggere il commento non vedo l'ora di tornare esatto non vedo l'ora che sia finita perché altro più che di tornare nel commento dove parlava qualcuno se non mi ricordo assolutamente chi dell'ingresso dei giocatori sotto è un argomento piuttosto dibattuto è un argomento caldo quindi se intanto puoi mettere quello lì non so se sia una questione di caso trasferta io credo sia proprio questione di personalità di nervo poi come dicevi tu Orla non è mai solo colpa del giocatore colpa di due giocatori dei due direttori sportivi di Venturato di Tocopina diciamo che tutti nel complesso non è che abbiano fatto un granché poi e qua lo dico e dopo mi taccio sei Venturato continuo a insistere su un attaccante che è Colombo che non parlo del discorso realizzativo perché lui può anche dirmi tu non si capisci un cazzo di calcio a me non mi importa che Colombo faccia gol mi importa che tenga sulla squadra che smisti che faccia tutto e va bene ma non fa neanche quello ma non fa neanche cioè stiamo parlando di un giocatore che da mesi purtroppo e lui sarà sicuramente il primo dispiaciuto non sta più non è più un giocatore di calcio di serie B è un giocatore che vive di rendita dei primi mesi che ha fatto benissimo in maniera incredibile qua a Ferrara ma adesso non è più così quando ti manca Viviani hai solo un altro play in mezzo e lo tieni in panchina perché hai fatto scelte tecniche da Zanellato l'ha già giocato in quel ruolo lì quest'anno l'ha già fatto e non era data bene e io ah i Melchiorri che comunque i suoi gol comunque di Rifo di Raffa li ha fatti li sta facendo e viene in panchina allora io mi dico ok ma allora avrai tutte le sfighe del mondo ma allora ti vuoi anche male cioè nel senso ma perché non ti aiuti almeno con quei giocatori che ti hanno garantito un minimo un minimo di garanzie però è anche vero Leo anche questo non è stato detto esplicitamente però Melchiorri e Meccariello erano due dei reduci dall'attacco influenzale la scorsa settimana quando abbiamo avuto occasione di chiedere c'è stato detto oh guardate che erano devastati si sono allenati due volte in tutto quindi il preventurato ha fatto anche quella valutazione lì ha detto sì qua cioè sì e no che riescano a fare mezz'ora un tempo non è che posso mandare lo sbaraglio quindi io Leo sulle scelte di formazione sinceramente faccio sempre fatica a sindacare cioè diciamo per come interpreto il ruolo di giornalista faccio fatica a scrivere ma l'allenatore doveva mettersi 3-5-2 ma doveva mettere quello doveva mettere quest'altro doveva fare quel cambio lì doveva fare quell'altro cambio ci sono troppe cose che non sappiamo e l'unica cosa che possiamo fare è chiedere e chiedere e sperare che ci vengano date le spiegazioni se però le spiegazioni che vengono fornite sono incomplete o come dire a volte anche non dico ridicole però insomma non del tutto convincenti poi la palla passa all'opinione pubblica che è libera di farne ciò che vuole però ecco il corso di artigiamiento per tornare all'origine del commento è una cosa che credo nessuno riesca a spiegare davvero cioè io credo che nessuno riesca a spiegare il male oscuro che affligge questa squadra davvero l'avete ripescato il commento non ho visto perché stavo parlando sì 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 l'avevo pescato e a questo proposito c'è Paolo che invece cambia un po' il focus dice che il problema di questa squadra potrebbe essere anche il capitano ma non credo cioè alla fine da quello che ho avuto modo di capire da chiacchiere cose varie cioè Vicari è comunque un giocatore apprezzato dai suoi compagni assolutamente quindi no non credo giochino male o non vincano perché Vicari è il capitano e non è un capitano convincente credo sia l'ultimo no l'ultimo di problemi no però è un problema molto molto relativo ci sono altre cose che non funzionano cioè poi vabbè mi faceva ridere prima che scriveva eh ma se si fa il play out si va giù attenzione perché se vai il play out davanti puoi fare anche due pareggi questa squadra mi sembra specializzata mi sembra specializzata nel pareggiare quando dovrebbe vincere quindi insomma comunque adesso a parte gli scherzi veramente quando io prima parlavo di non fare il funerale alla squadra intendo proprio quello cioè adesso aspetterei un attimo a parlare veramente di play out di fare le speculazioni sui play out la squadra non ha quattro punti sotto la zona play out a quattro punti sopra la zona play out e quelle dietro adesso non è che abbiamo detto il Barcellona Real Madrid cioè adesso con calma sicuramente parlare di play out oggi è un tema cosa che non era dieci giorni fa due settimane fa perché bisogna parlarne perché non saremmo credibili se non lo facessimo però da lì a parlarne come se fosse una cosa certa insomma dobbiamo un attimo trovare l'equilibrio anche è chiaro è chiaro è chiaro non ci sono dubbi su questo Sara dice Leo non avevi detto che non avresti parlato troppo sì infatti adesso ti placchi Leo il cane di Leo anche lui è in dissenso ragazzi giuro che oggi la mettilo fuori è già fuori quello è il problema c'è una domanda da parte di Federico che chiede secondo voi è una coincidenza che Colombo con Clotetta era un bomber e che con Venturato sembra un tetraplegico che vabbè è un po' esagerato mi sembra un termine un po' esagerato esatto non condivido però la pongo come è stata scritta nel rispondere comunque Clotetta aveva detto che questa squadra questa squadra ah ok credo nel rispondere tenete anche conto che Clotetta ha avuto il merito di riabilitare Viviani su cui nessuno ci credeva più è vero però è anche vero che Viviani ha fatto di tutto per riabilitarsi da solo cioè non abbiamo la contro prova del fatto che non ce l'avrebbe fatta con un attore diverso anzi già con Rastelli alla fine della scorsa stagione si era visto qualcosa poi quest'estate ha completato il lavoro ma su Colombo anche lì stiamo parlando di un enigma nel senso che da un lato a me sembra normale che un ragazzo di 19 che ha fatto 20 da poco possa cominciare alla grandissima e poi perdersi per strada abbiamo visto altri giocatori Under 21 quest'anno fare più o meno la stessa roba Luca Alpisa Mulattieri del Crotone che è un ragazzo di proprietà dell'Inter che prime cinque partite mi sembra che abbia fatto quattro gol una roba così cioè purtroppo lo sai che quei ragazzi giovani le cose vanno così io sono più preoccupato in realtà da due elementi da uno che questa squadra se non ha Viviani non ha un gioco e questo è grave perché non puoi dipendere da un giocatore dopo hai la sfiga che Mancoso si è fatto male a Como ed è fin troppo evidente che non si è ripreso del tutto cioè che ce la sta mettendo tutta ma non sta bene cioè lui dimmi Leo no no niente ho capito io inside joke ecco va bene ecco è questo il problema e in più sono un po' diciamo esterefatto dalla parabola discendente di Vido perché Vido comincia bene assist gol quella partita contro la Ternana va bene che è andato tutto bene lì però insomma poi adesso non stoppa un pallone ma cosa sta succedendo a questo giocatore e allora si torna al punto di partenza ma qual è qual è la patologia che affligge questi ragazzi che appena entrano a Paolo Mazzo perché davvero io credo che nessuno abbia spiegazioni neanche Venturato perché non non c'è una logica perché avrebbe già messo in atto i correttivi probabilmente se lui li messi ma sì comunque dicevo prima ma poi scusa Leo scusa Leo chiudo il ragionamento Clotet uno dei motivi per i quali tra Clotet e Venturato c'è stato questo cambiamento di rotta nel senso da un tecnico appunto di calcio posizionale avanguardista sempre sempre aggressivo sempre verticale così si è passati da un tecnico un po' più vecchia maniera perché perché Clotet con il gruppo a disposizione che era un gruppo inesperto che era un gruppo con dei limiti iniziava a pretendere un po' troppo e a cambiare un po' troppo mentre con Venturato c'è preso un allenatore che ti fa fare tre cose e si spera che te le faccia fare bene e il problema è che se sta squadra qua ha anche le tre cose che ci sono da fare bene ne fa una e mezza e poi prende dei gol ridicoli e allora io continuo a pensare che Venturato sia parecchio frustrato ma che non lo possa né dire né esprimere però è fin troppo chiaro questo c'è un commento che ah scusa Leo non volevo interromperti per la quarta volta puoi finire il tuo ragionamento volevo solo dire da 5 minuti che Clotet prima che fosse allontanato aveva detto che questa squadra quella squadra non la squadra rinforzata la squadra per i mercati di gennaio avrebbe fatto più punti nel mercato nel mercato nel giorno di ritorno piuttosto che nell'altro è una parola non abbiamo la controprova che fosse andata veramente così però insomma però ne ha fatti sensibilmente meno perché nel giorno d'andata la Spagna ne ha fatti 21 fino a ne ha fatti 14 e se anche ne dovesse fare 6 o 4 comunque avrebbe una prestazione significativamente imperiore certo c'è Luca che a proposito del tuo commento su Vido ci dice Vido gioca meglio a fianco di Melchiorri e male a fianco di Colombo è un caso probabilmente no però se Melchiorri non riesce a star bene ad avere 95 minuti si affegna è tutto lì il discorso adesso sono curioso di vedere cosa farà avventurato a Brescia perché è una partita nella quale si arriva a riga a monte e si parcheggia l'autobus davanti alla porta o si prova a fargli male a questi qua perché hanno un attacco molto forte in difesa non sono eccezionali però comunque è una squadra che sente il sapore del sangue in questo momento perché vuole giocarsi la Serie A quindi sono curioso di vedere che tipo di piano partita imposte avventurato e soprattutto che tipo di scelte farà soprattutto in attacco perché se farà giocare che ne so Finotto e Latte mi viene da pensare che voglia attaccare lo spazio dietro al Brescia chiudendosi a Riccio però insomma dopo vedremo cosa succederà C'è Sara che ci dice siamo passati da Agvol la punta Agvol do punta un terzino regista se ne vuole in roba lì se ne vuole in roba lì e Luca infatti dice Agvol la squadra invece c'è Rudy che chiede questa è una domanda che dovremmo porre eventualmente la prossima volta che ti senti con qualche dirigente orla ma se il biglietto costa 5 euro la birra costerà in proporzione per 1 euro 50 2 euro credo proprio di no sarebbe una mossa geniale comunque ma non dovrebbero mettere la promo cioè sul sito sul sito non dovrebbero scrivere biglietti 5 euro dovrebbero scrivere birra 1 euro e mezzo e anche e anche biglietto 5 quindi oppure fare un abbonamento per il bar venite venite per la birra rimanete per la partita questa cosa qua dovrebbero fare è vero che come che come ah sole sole che si aggiunge al commento a quella squadra e aggiunge è una quadra ma non c'è Polapui oggi Poli no Pela Pui invochiamo Pela Pui che è una divinità samoana probabilmente c'è Buso che dice che l'autobus lo porta lui e porta la snodata per stare più tranquilli anche se il commento migliore è quello di Pietro più che vuole una punta vuole di punta vuole di punta no beh meno che questo però birra gratis birra gratis così non capiamo se stiamo vincendo o perdendo quella potrebbe essere la soluzione noi la buttiamo in ridere tanto ormai in realtà è già così per buona parte del pubblico e io mi sento di far parte di quella categoria c'è una certa abbiamo preso l'abitudine di andare a prendere una birra ad ogni momento un po' no e diventa impegnativo terminare la partita va bene ma agganciandoci ad alcuni di questi commenti ma quindi quanto serve per mettersi a riparo sei tu che hai fatto la tabellina no non l'ho fatta io l'hanno fatta Giacomo Roberto Luppi e Costantino Felisati la pubblicheremo domani sullo spallino perché oggi non sono riuscito a revisionarla in profondità allora in realtà l'analisi non parte da questo presupposto da quanto serve è chiaro che ci sono due scenari nei quali la SPAL è aritmeticamente salva facendo 9 e 7 punti siamo tutti d'accordo sul fatto che si tratta di due scenari complessi diciamo così da realizzare non impossibile prima cosa la faccia di Leo dice tutto comunque e non è la stacca della giornata con 6 punti non dico niente con 6 e 5 punti non dico che sei in cassaforte ma comunque gli altri dovrebbero fare qualcosa di veramente eccezionale con 4 punti ne servirebbero 7 dell'Alessandria per andare in play out e 7 anche del Cosenza quindi anche a loro sarebbe richiesta una roba un pochino complessa da realizzare perché è vero che hanno un calendario che all'apparenza sembra migliore di quella della SPAL ma le partite bisogna giocarle perché anche noi pensavamo che con Cosenza e Crotone avremmo fatto Bocconi invece non è successo niente di tutto ciò con 3 punti ovviamente la situazione diventa un pochino meno simpatica quindi vedo che fioccano le ipotesi da parte dei commentatori 4 5 poi c'è anche dice che serve che le altre continuino a perdere e ci sono gli ottimisti che puntano sui 3 punti quindi allora lo scenario con 3 punti dice che se fai 3 punti e basta arrivi a 38 e per andare ai play out si devono verificare queste due condizioni che l'Alessandria faccia 6 e il Cosenza 6 oppure che l'Alessandria faccia 6 e il Vicenza 9 cioè che le vinca tutte e 3 insomma mi sembra un po' diciamo un po' difficile soprattutto per il Vicenza non dico per l'Alessandria o il Cosenza insomma però il Vicenza mi sembra fuori fuori dai giochi ormai a meno che veramente non succeda qualcosa di incredibile oggi e poi questo ci servirà per arrivare a parlare anche delle dichiarazioni di Gazzoli Gazzoli nel suo ragionamento ha detto due cose riguardo le ultime tre partite ha detto se questa squadra fa il 100% delle sue possibilità o diciamo qualcosa che gli assomiglia non ci sono problemi a fare 4-5 punti o meglio non ci sono problemi è possibile fare 4-5 punti ecco l'altra cosa che ha detto è non eravamo salvi una settimana fa non siamo retrocessi adesso e comunque il calcio ci insegna che quelli dietro sono quelli che hanno più pressione rispetto a noi perché comunque quei punti per prenderci li devono fare e una partita su tre la puoi anche sbagliare del tutto perché ti può capitare l'imponderabile può capitare che il Portenone vada in ciabatte a Cosenza ma con due calci d'angolo faccia due gol e vinca la partita o che il Cosenza è talmente attanagliato dalla pressione di dover vincere tira 40 volte in porta e non fa niente come l'Italia contro la Macedonia cioè quindi attenzione anche a questo è una è una come dire è un'analisi che vi convince o che pecca un po' troppo diciamo di ottimismo ma io la prima volta che ti sento parlare in termini così ottimistici no non è la mia tesi è una tesi di Gazzoli non è la mia no no ok non lo so io mi sento di dire che se Gazzoli ha detto questo magari qualche un minimo di fondatezza nel suo pensiero ci sia è vero che comunque chi è avanti è più avvantaggiato ma l'abbiamo detto fino ad ora non io non cioè non saprei come commentare secondo me è complicato fare delle delle ipotesi a questo punto di pronostici un po' perché come ha scritto Emiliano a tre giornate alla fine comincia il biscotto time no? di solito comincia a vedersi risultati strani anche se quelle che ci sono sotto non è che abbiano tutti questi motivi per fare dei biscotti o delle colombe però non so io orla leggevo anche nel quando Costa e gli altri colleghi dello Spallino scrivevano nel gruppo sì è vero i calcoli sono quelli lì però abbiamo visto che sono condizionati da talmente tante cose che secondo me è veramente difficile pronosticare quanti punti servono non dico che sia impossibile o che non abbia senso però siccome è arrivato a questo punto del campionato entrano in gioco talmente tanti fattori di energie nervose nelle squadre di pressioni che cambiano di squadre che magari sono arrivate all'obiettivo e cambiano completamente vanno in vacanza cioè non so io non me la sento di sbilanciarmi con quanti punti mancano c'è una domanda da parte di Stefano che chiede ma ci sono possibilità che la regina non pagando le tasse venga a retrocedere e venga ripescata la squadra che perde i play out è bello vedere come ci si attacchi un po' tutto ma questo è quello che farei anch'io nel senso che io essendo un pessimista patologico non sembra dalle considerazioni che sto facendo stasera ma lo sono cioè io cerco di analizzare sempre lo scenario peggiore e poi andare verso quello migliore quindi Stefano sta adottando lo stesso principio cioè se malauguratamente la squadra va giù i play out viene ripescata ha fatto una domanda raga no ma si ha fatto una domanda perché evidentemente ci ha pensato invece che ci spera proprio esatto il discorso lì è complesso è complesso Stefano perché la regina ha delle pendenze col fisco bisogna vedere se riuscirà a sistemarle poi se non sbaglio i criteri per l'iscrizione al prossimo campionato non sono ancora stati approvati dal consiglio federale della FICC non vorrei che nei prossimi paletti diciamo così ci fosse qualcosina di più ampio in virtù del fatto che veniamo da due anni di bilanci disastrati quindi vediamo secondo me è veramente molto presto per fare speculazioni di questo tipo detto questo se si dovesse verificare un scenario del genere per il quale la regina non si iscrive è chiaro che devono ripescare qualcuno e per forza di cose succederà quello che è successo un anno fa col Chievo Chievo non si è iscritto per più o meno le medesime ragioni anche se aveva dei debiti molto più consistenti e hanno ripescato il Cosenza che era il retrocesso tra l'altro senza play out perché è andato giù direttamente perché c'erano i 5 punti l'anno scorso di distacco se Luca da un attestato di stima ti dice che con 11 orle in campo saremo già salvi no perché sarebbero giocatori grassocci e con poca autonomia comunque io l'ultimo calcetto che abbiamo fatto insieme di Orla ricordo solo una cosa positiva che è stato un assist di Scavetto di Mancino per il gol di qualcun altro dopo raga sono passati cinque anni leo gli ultimi calcetti che ho fatto ho fatto vedere cose interessanti in realtà ti posso portare diversi testimoni non faccio gol davanti alla porta sono peggio gli attaccanti della spalla perché non faccio mai gol però la visione di gioco è più che buona va bene qualcuno prima scriveva che c'erano problemi però in realtà credo fosse un problema della persona che ha scritto perché io vi vedo fluidi anche io infatti non ho ricevuto segnalazioni a riguardo quindi direi che mi sembra tutto in ordine comunque si pida molto di te Orle ti dice che sulla sinistra una maglia te la puoi giocare sì è un meta riferimento al fatto che Sandro mi ha regalato una maglia di celia quindi sì peccato che il mio mancino sia veramente scarso nel senso che col sinistro veramente scendo a malapena a letto faccio qualche passaggio azzardato stiamo veramente parlando delle doti balistiche di Orle calcetto dovremmo organizzare dovremmo organizzare un calcetto della diretta dello spallino tutti quelli che vogliono partecipare si possono iscrivere in un form che possiamo mettere qua nei commenti facciamo la fine anno facciamo il torneo della diretta dello spallino con le varie squadre cosa è che potremmo organizzarlo la fine del campionato che si sta bene e poi tutti e poi tutti e bere delle birre va bene comunque Orle c'è Sara che ti ha paragonato a Morgia che dice che è Flocari con la Juve quindi ha paragonato la tua se prendessi i soldi di Morgia direi ma ci metto la firma però purtroppo i miei erediti sono un po' diversi comunque allora altro tema che è già stato parzialmente introdotto dov'è la società perché dopo la partita col Crotone si è cominciato a dire ma la società lo sbando se non parla da Coppina non parla nessuno i giocatori poveretti sono abbandonati loro stessi Venturato si prende tutte le porcate qua e là su e giù cosa succede che ieri ci arriva la convocazione e oggi siamo tutti in sede con Gazzoli il direttore generale che come sappiamo interviene molto raramente per insomma parlare un po' della situazione e per ricevere delle rassicurazioni che voglio dire nel mio caso si sono rivelati essere superfluo ma mi rendo conto che parlo da privilegiato perché se ho voglia di telefonare a Zamuner a Tarantino a Gazzoli o mandare un messaggio a Giottacopina posso farlo mentre la maggior parte delle persone tendenzialmente no e quindi forse io ho una visione distorta mentre fuori può sembrare che effettivamente i dirigenti non ci siano o non facciano nulla quando in realtà fanno molto e cercano di fare loro meglio comunque detto questo le dichiarazioni di Gazzoli le trovate sullo spallino se non le avete lette andate a leggerle voi che idee vi siete fatti cioè nel senso le avete trovate rassicuranti o siete del partito di quelli che è il taccone peso del buso cioè che le dichiarazioni di Gazzoli gettino ancora più ombre di quante non ce ne fossero prima ma no ti dirò io di Gazzoli ho sempre avuto una grande stima mi sembra che oggi in particolar modo abbia pesato molto quello che ha detto e l'impressione che io ho avuto è che quello che sia che è stato detto fosse molto sincero e il fatto che anche quando ha parlato di solidità della società di progetti futuri di settori giovanili ma anche di investimenti strutturali per il centro insomma lui abbia parlato con il centro per questo di infrastrutture Leo ma hai letto il passaggio sulla tribuna eh sì uno come te che col cantiere dello stadio si eccita letteralmente deve aver avuto un frenito a leggere di eventuale rifacimento della tribuna la copertura e magari la buttiamo giù del tutto è una roba grossa è stato l'unico passaggio interessante della interazione perché posso dire posso dire mi è sembrata veramente eh una un'intervista chiamata cioè tutti si lamentavano che la SPAL non parlava e adesso nella partita non posso parlare di partita decisiva che ne mancano tre una peggio di quell'altra però nel momento decisivo si sono rilasciate chiaramente dovevano mettere mettere una figura rassicurante per smorzare un po' gli animi è stata una scelta certamente ponderata potevano mettere uno che avrebbe tirato su una bufera ha anche secondo me chiarito abbastanza quello che è stato l'atteggiamento di Tacopina parlando di come ha lavorato anche con la nuova responsabile della comunicazione Leo che cosa ti aspettavi è da un po' che non si sentiva parlare nessuno anche niente polli mi aspettavo se devo essere proprio sincero scusa un attimo tutti quelli che dicono ah beh ma avrei preferito questo che cosa vi dovrebbero dire perché era proprio quello che io volevo levar lì cioè in questo momento secondo me non c'è bisogno sì c'è bisogno di dare la parola di far capire che c'è una progettualità forse non l'ha fatto prima forse erano argomenti da fine stagione riprogrammazione cioè è vero tutto quello che ha detto è stato utile ha messo in linea le cose è servito perché aveva dei dubbi e questo non possiamo dirvi no insomma ha fatto un po' di chiarezza mai la chiarezza è un motivo per dire che le cose insomma non devono essere fatte diciamo che in questo momento qui non so avrei forse evitato insomma non era una settimana in più che che avrebbe spostato gli equilibri non lo so cioè vedo ci sono delle belle iniziative come quella dei prodotti della SPAL su Amazon di per sé è un'iniziativa bella cioè è qualcosa che ci sta che fa parte del progetto però posso dire che tutte queste robe in questo preciso momento non so non mi sembra che sia proprio il momento perfetto cioè se lo SPAL si fosse salvato allora ci sta che Gazzoli fosse intervenuto con progettualità si parla di ritiro di lavori eccetera però in questo momento non so io vi dico il mio pensiero in maniera molto ma io tanto non conto niente quindi ce lo posso dire non so non lo so forse avrei aspettato un po' di più c'è chi ti dà ragione Leo e c'è Massimo che in particolare ha scritto un commento divertente col giacca si impassa a brisa il fritel ok è particolarmente vero però è anche vero che le parole aiutano a capire meglio le cose allora a Tommaso che mi dice ha detto però di circostanza mi piacerebbe sapere cosa ne penso io fermo restando che quello che penso io è abbastanza irrilevante ma io ho apprezzato ma perché ma per un problema che c'è a monte e che ho fatto notare più volte alla spalla intesa come società e le persone che ne fanno parte che una parola in più è sempre meglio di uno in meno soprattutto nei momenti brutti perché venivamo da un anno e mezzo di scarse apparizioni pubbliche di diciamo una trasparenza a fasi alterne diciamo così quindi ci sta che un dirigente dica sentite è vero che Tacopina è esuberante che parla che dice questo dice quello dice altro ma uno quello quando parla le cose vanno insolite in un determinato contesto che hanno a che fare con la sua cultura con la sua visione del calcio dello sport e tutto il resto e due che non è che se Gazzoli Tarantino non parlano equivale che non si sta facendo niente che non siamo vicini alla squadra che non stiamo pensando al futuro che non stiamo contemplando tutti gli scenari secondo me le sue parole erano quelle che andavano dette in questo momento nel senso che credo servono soprattutto a ribadire un concetto che alla Spal una società esiste che prescinde dalla presenza di Tacopina a Ferrara e che le cose vengono fatte con l'idea di rendere la Spal autonoma diciamo così una frase che ha detto Gazzoli è qui c'è tutto dalle strutture alle persone per venire girare la chiave e cominciare a far calcio in altri posti non è così io su questo fatico a non dargli ragione perché è vero che tanto di quello che c'è è stato ereditato dalla proprietà che c'era prima ma è anche vero che Tacopina non è che è venuto qua ha detto ridimensioniamo questo ridimensioniamo quello no è arrivato qua con delle idee che possono essere anche diverse da quelle che avevano i Colombarini e ha come dire una prospettiva nella quale vuole collocare la Spal ci riuscirà non ci riuscirà diamogli tempo di verificarlo perché è stato fatto un parallelo con il 2013 quando sono arrivati i Colombarini quel primo anno di Spal non fu così divertente se vi ricordate perché se arrivò all'ultima partita col Bellaria dopo aver se non ricordo male perso a Mantua con le chiappe strette perché è vero che Bellaria era già il processo ma io mi ricordo i discorsi che si facevano nove anni fa eh ma se se sbagliamo questa partita e gli altri vincono e quell'altro fa sei gol cioè quindi il primo anno di una nuova proprietà è sempre contrassegnato da una marea di rogne e questo qua non ha fatto alcuna eccezione c'è Sergio che dice che mi sembra che anche con la passata dirigenza dopo i lunghi silenzi usci Gazzoli a parlare per tranquillizzare l'ambiente poi abbiamo visto com'è andata la mia personale opinione a riguardo è che sì questa coincidenza non me la ricordo ma ripeto Gazzoli secondo me ma poi non ha senso mettere in relazione questi due fatti cioè se parla Gazzoli allora vuol dire che stiamo andando nella tomba ma che discorso è non sono d'accordo cioè Gazzoli è uno che parla raramente e Gazzoli forse finisce col parlare in momenti difficili perché è nei ranghi della società quanto di più vicino ci sia al presidente perché anche prima era così che se a Matteoli non andava di parlare se vai giù nell'organigramma societario c'era Gazzoli perché il direttore generale quindi cioè sopra di lui ci sono solo i presidenti e i proprietari cioè fine e anche in questo caso sopra di lui presumo ci sia Dante Scimiglia che è un fedelissimo di Giotta Coppina ma che non ha mai rilasciato un'intervista per la stampa ferrarese se non a luglio quando c'era la trattativa e poi Giotta Coppina stesso quindi ci sta secondo me che la figura più importante nell'organigramma diciamo in termini di gerarchia decida di dire sentite ok adesso esco io e vi dico guardate ragazzi le cose stanno così 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 poi Gazzoli è vero che ha un background calcistico che è stato calciatore anche lui e tutto quanto ma è anche vero che è uno molto diciamo freddo nelle analisi cioè non è uno di quelli è l'esatto opposto di Tacopina Tacopina vede cose che non esistono e dice perché no e Gazzoli guarda quello che esiste e dice ok è così e mi va bene cioè una roba del genere quindi c'è una parte secondo me anche del ruolo che riveste c'è una una domanda da parte di Federico che chiede ma in caso di retrocessione scusate nella cartellina rossa almeno in privato ti ha detto cosa c'è perché alla fine è l'unica cosa che veramente preoccupa non me l'ha detto non me l'ha detto e non credo l'abbia detto nessuno neanche a sua moglie ma perché ma perché non ci vuole pensare poi anche qua vale sempre il principio del rasoio di Ockham cioè la spiegazione più vicina alla verità è quella più semplice se succede una roba del genere a cartellina rossa c'è scritto tagliare i costi tagliare brutalmente i costi perché in serie C non guadagni assolutamente una fava di nulla né pubblico né commerciale né stadio né merchandising né diritti tv quindi tagliare 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 i costi e cercare di fare una squadra che possa giocarsi e rientro in serie B presumo ci sia quello nella cartellina rossa non molto altro comunque se diciamo se la SPAL ha una garanzia oltre a quelle che Tacopina comunque ha detto di avere insomma in termini di soci anche se Grazale stesso anche nella sua intervista ha detto che non ne conosce esattamente i contorni è la serietà di Gazzoli cioè secondo me per tornare al principio dopo tutto quello che abbiamo detto cosa ci può lasciare l'intervista di Gazzoli di Carzale di Gazzoli il fatto che ci sia una progettualità il fatto che ci sia qualcosa che non ci siano le valigie pronte tutti pronti a scappare dalla porta di emergenza secondo me è questo che al massimo deve lasciare poi tutto il resto come ti ho detto prima lo mettiamo lì e ne riparliamo quando sarà ora della tribuna da rifare dei progetti di mettere mano a questa a quell'altro secondo me se c'è qualcosa se c'è una garanzia che la SPA ha questa garanzia si chiama comunque Andrea Gazzoli perché è una persona che noi conosciamo anche personalmente e stimiamo ed è una persona che non è uno a cui piace dire cose che non sono vere oppure solo per incalmare le folle ecco secondo me quello che lui ha detto è vero però insomma oggi vediamo di fare i punti dopo parliamo di tutto il resto c'è Emiliano che si presenta qua da noi con una proposta da inserire nella cartellina rossa di Gazzoli e si dice in ci si potrebbe giocare al motore velodromo in porta catena per ridurre i costi non so se è regola però ci guarderemo è stato ristrutturato da poco per tornare su un commento che avevo letto svariati svariati minuti fa cioè di qualcuno che scriveva non c'è la società io sono in disaccordo su questo perché la società c'è poi è una società perfetta no qual è la società perfetta boh io non ne conosco non ne ho mai viste da quando seguo la SPA quindi io credo che in realtà la SPA come società come organizzazione sia molto sottovalutata perché ricordiamoci che qua ci sono fatti tre anni in serie A e si è arrivati in una categoria senza averlo pianificato né niente e poi oh si sbaglia si sbaglia perché quando diventi troppo grande ti devi strutturare devi prendere decisioni in fretta e a volte sbagli quindi insomma io credo che l'ultimo dei problemi davvero della SPA sia quello della società perché ha dimostrato di essere una società che cerca di costruire per il futuro poi ovviamente sul campo ci si diverte poco però quello è un aspetto di natura diversa secondo me ok lei vuole aggiungere qualcosa su ti convincono queste considerazioni che abbiamo fatto no no quello che che dovevo dire riguardo le considerazioni l'ho detto sostanzialmente cioè nel senso le dichiarazioni prese in valore assoluto sono dichiarazioni positive nel senso ha detto solo cose positive è stata un'iniezione di fiducia non sono particolarmente convinto del momento ma visto che io non lavoro nella SPAL e faccio altre cose nella vita Segazzoni che è il direttore generale della azienda mi viene da dire più che squadra la società SPAL ha deciso di uscire in questo momento con quel tipo di dichiarazioni evidentemente le ha pensate visto che non è uno che parla ogni post partita giusto per apparire quindi se l'ha fatto avrà avuto i suoi buoni motivi insomma non sono di certo noi tutti tutti noi anche chi ci sta guardando eccetera facciamo fatica a comprendere tutti gli elementi perché non abbiamo il quadro di insieme c'è sicuramente ha dato sicuramente una certezza a molti dei nostri spettatori che sto vedendo che scrivono di aver prenotato i voli per andare a vedere certi fiori negli States quindi ha risolto quantomeno un problema vacante c'è una domanda peccato Leo che tu ci sia andato poco tempo fa c'è una domanda ancora di Sergi c'è Tocopina rimarrà anche in caso di attocessione a parte che oh ma veramente qua cioè stiamo parlando di attocessione che ancora non c'è non esiste che vabbè possiamo no 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 non c'è di parlare di parlare della tutta retrocessione è indicativo di un clima che c'è in queste cose no ma perché Leo cioè due settimane fa ci chiedevano ma chi prendono in attacco ecco e adesso abbiamo ribaltato tutto comunque Tocopina rimane che c'è sì secondo me sì però poi vediamo ma non tanto non non volevo non volevo dire la frase ma tanto la spalla non ci fa inserire perché sicuramente era usata contro di me nel caso questo scenario si dovesse verificare però vabbè comunque Leo ti voglio fare un esempio di gente che non deve fare dichiarazioni e siamo io te e la polli perché prima di spal crotone abbiamo detto che i migliori in campo sarebbero stati Mancuso Pinato e Colombo Mancuso Pinato e Colombo ragazzi cioè è veramente una roba abominevole ma per forma ma chiunque sceglievi cadevi male non è vero perché ti dicevi Tiam o Pepito portami a casa ma Tiam come facevi sapere che giocassi Tiam che fino a un'ora prima di giocare era sicuro non eri in panchina cioè un dain non facciamo questo gioco per le ultime tre magari se noi che partiamo sfiga questo gioco comunque di generale non è che ci abbiamo preso così tante volte ora che c'è chi di gioco ho vinto io perché ci siamo 6-4-3 quindi ecco la polli va la polli e io rimango lì e orlo basta va bene vado su prossimo non faccio i pronostici sulla serie A sono usciti articoli anche se i prossimi attaccanti sì Beatrice sono usciti vabbè adesso scusami adesso tu dimmi sulla base di quello che abbiamo visto ultimamente chi è il giocatore che farà la prestazione positiva contro il Becher ma questo è il bello ma questo è il bello dimmi sulla base di cosa lo scegli ma questo è il bello vabbè dai facciamolo vai dai polli comincia tu vuoi dire Colombo dai polli di Colombo dico Colombo no no dai per favore ci riprovo ci riprovo io dico quindi cioè che partite immagini tipo una bella partita comunque mi ha appena scritto un amico non so se posso rivelare la sua identità in privato mi ha scritto mi sono giocato 50 euro sul 2 Brescia e X a Cosenza quindi Cosenza Pordenone X vamo là mi ha scritto sto pensando anche io sto pensando che può essere Tripaldelli Tripletta ha scritto Luca Baraldi scegliere Pinato te la cerchi scrive Davide ha ragione Gianluca dice lui non giochiamo a Brescia partiamo da chi deve indossare la fascia di capitano Mora oppure Meccariello conta nulla forse ma forse sì ma non lo so Gianluca intanto vediamo se Vicari gioca o no perché se Meccariello sta bene non voglio prendere tempo ti dico Melchiorri perché secondo me è roba serve un vecchione per risolvere questa partita ma una roba importante Andrea Sartin ci chiede la fenicottera non si vede più allora fermo restando che vorrei ricordare che la fenicottera in origine era la compagna di Pat Carroll Pat Carroll l'investitore che poi si dileguato no ma è un tema che mi appassiona questo qua Pat Carroll che per settimane è stato il nostro idolo ne abbiamo parlato a ogni diretta finché era che ha deciso di volare la baracca Pat Carroll Daily abbiamo la rubrica vi ricordate no voglio far presente ad Andrea Sartini che è poco aggiornato perché la fenicottera non c'è più perché Pat Carroll e Alina Baicoi sono lasciati e adesso Pat sta con una ragazza del 2001 fine parla appassionata di The Blind comunque mi fa sempre ridere il fatto che tu sappia con chi è fidanzato Pat Carroll ascolta ma mette 600 storie su Instagram al giorno è peggio che lo sforzano per forza guarda che sa tutto ascolta ma mette 600 storie su Instagram io voglio sapere il primo visualizzatore delle storie di Pat Carroll era Orla è finito capisci ma lo è tuttora Leo lo è tuttora sono affascinato sono affascinato dalla figura di Pat Carroll è uno dei miei obiettivi prima della stagione e intervistarlo per capire cosa è andato torto nel suo investimento quindi non mi sento di fare una promessa però diciamo che vorrei vorrei capire meglio comunque ho visto un commento che volevo tripletta di finotto non succede la città della Venezia madonna Sara se succede una roba così è veramente c'è veramente da andare a mettere un cero al Duomo non ci si riprende più ragazzi 50 euro comunque va bene dai Orlandin come la Dursa scrive Fabrizio De Simone ciao Fabri ciao Fabri Fabri che tra l'altro adesso lui non lo dirà ma anzi non lo dirà lo dico io che ha proprio postato un ricordo su Facebook di quando siamo andati trasferta credo a Firenze no eravamo a Empoli 2 a 4 no sì ma io parlo di un altro ne ho passati due anche quello di Firenze e quello del lago con Costa ah beh esatto sì 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 la ricciola il coniglio rimane coniglia vabbè comunque siamo parlando dei cazzi nostri dei cazzi nostri esatto Orla se il nome della Fenicotta non lo so nemmeno ho fatto io direi raga che con questo si può chiudere ma tu Leo hai detto qualcuno? sì sì hai detto Alfonso io ho detto Alfonso e tu Orla? ho detto ok allora diciamo che ci vuole e poi tanto cosa succederà che lunedì alle 18 e 15 manderemo un messaggio sul nostro gruppo e scriveremo scusate che avevate detto come è ogni partita è così va bene comunque grazie a tutti ancora una volta un'ora e quattro madonna quanto siamo stati ma grazie soprattutto a Paolo per la chiusura scusate a Piero però non è venuto per la Puglia cioè invochiamo un'oparizione stagionale un commento del secolo poi se n'è andato invochiamo Pella Pui va bene va bene ragazzi grazie a voi grazie a chi ci ha seguito chi ci seguirà in differita ci trovate anche su YouTube ma comunque c'è anche sul sito lo spallino iscrivetevi alla newsletter perché non manca molto al 9 di maggio in realtà il campionato sarà già finito il prossimo giro della newsletter magari ci sarà un'intervista a Pat Carroll chi non so speriamo di trovarci con una buona notizia e la prossima perché continuamente c'è parla il gazzettino la pagina necrologica va bene comunque dai ci vediamo mercoledì prossimo spero e niente speriamo per il bene almeno un punticino aprescia bene buonanotte a tutti ciao a tutti buonanotte ciao ciao